questa aspedaliera non succede però potrebbe essere praticamente al muro un cuore che aveva il parrucchino allora lo mette in tebare lì il parrucchino che si spostava e si muoveva le femmine dice ma è il possibile che ci l'hanno veduto con il parrucchino, con i chiave, c'è un ufficio, allora dice che c'è l'ambitorio e il signor Ruth che metteva i salmi e dice signora che non siete a preoccuparsi, facciamo noi, io che vado a bere il caffè non lo mettiamo a questo e torno a bere l'uomo perfetto, metto a queste chiave, una roba vergognosissima, le signore ha detto ma siete bravissime, ha detto insomma è vivi, ha insomma è appena venuto fuori dal parrucchino, ha detto signora le nostre lavori, io gli dico che vi dice 100 euro, no no signora non puoi dire che c'è il lavoro, ma no per plasera che vi ho fatto un lavoro meraviglioso che è bielissimo, se me che non vedo il parrucchino, che vi ho detto che è biel, fer, tutto, non si muove più nuove, no no signora non puoi dire e poi signora 100 euro e sono masse per quattro claus, che vi metto?